Eccoci, saluti a tutti. Allora dicevo oggi, guardiamo un attimo il Yom Yom già di domani, il Yom Yom è già oggi. La sua seconda parte dice Vi sono sogni buoni nei quali soggetti di Torah vengono resi noti alla persona che sogna. Ciò accade generalmente dopo un impegno intenso nello studio della Torah durante il giorno. Quando uno studia la Torah con grande diligenza, si impegna nel servizio del cuore che è la preghiera con grande sforzo, allora di notte, quando la sua anima si eleva per trarre la sua vitalità dalla vita superiore, come spiegato nello Zohar, gli vengono fatti conoscere nuovi aspetti della Torah, sia della Torah rivelata, sia della Torah interiore, ognuno secondo il suo impegno nel servizio durante il giorno. Quando invece di giorno siamo occupati in tutt'altro, abbiamo i sogni più assurdi e poco educativi e didattici nelle nostre notti. Quindi ne so qualcosa. Una volta nel mio passato, ricordo che ho segnato il Rebbe, e ancora ho questa, più di una volta, un'altra volta lì ho un'emozione, un ricordo che non dimentico. Perché c'era un'impressione del mondo intorno a me, tutto buio, pieno di cose cattive, persone che fanno cose cattive, poi guardo su in alto e vedo un dirigibile. E, presente, i dirigibili hanno la forma dove sotto c'è una navetta, dove si siedono le persone, con delle persone sedute e a capo di queste guida il dirigibile, il Rebbe, il piccolino che lo vedo, e le persone buone lì, che diffondono questa aria di bontà, che portano con questo dirigibile, quest'area opposta. E' rimasto dentro questo sogno. Sia da che quel giorno mi ero occupato di cose buone. Ok, allora, oggi accenno un attimo a sia una data importante, sia a qualcosa del Dvar Malfot, di questa parasha, però ho ancora una volta la chutzpah di invitare chi ne ha la possibilità di andarsi a sentire l'azione dell'anno scorso, tanto per cambiare, perché, ancora una volta, ci sono cose importanti, veramente generali, che danno un'impronta alla nostra Vodata Scemi, in generale, e che è peccato perdere. D'altra parte, se voglio anche aggiungere cose nuove, quest'anno di più cerco di puntare su conoscere meglio gli strumenti che ognuno deve affinare dentro di sé per il proprio lavoro personale, cioè, o faccio uno o faccio l'altro. Per cui a voi la scelta, a chi se la sente, può, è al momento giusto, di andarsi a sentire la lezione passata. Però un accenno minimo, perché oggi siamo entrando nel quarto di TV, vuol dire che giovedì, siamo nella data del 5 di TV, del quale tutti gli anni abbiamo parlato, che è una data per chi non è addentro alle cose, diceva, beh, ma cosa sarà sta grande importanza, che è stato vinto in un spazio, in una causa giudiziaria, che è stato vinto, un giudice federale americano ha dato ragione al Rebbe, ai chassidini, su una questione di libri kodesh, di grande valore, anche economico, ma grande valore spirituale, enorme valore. Libri che erano stati, con Messir Pnefesh, portati via fuori dalla Russia comunista, col Sridur del Balcento, che ha altri manoscritti e cose di eccezionale valore, e che erano raccolti per i chassidini, nella libreria dei chassidini del Rebbe. E con la ripartita del Rebbe precedente, un nipote parente ha pensato bene che questa era un'occasione per fare dei soldi, persona non molto addentro, le cose di Ratcha Maim, di Tumore del Cielo, e ha detto, in fondo, io sono un'erede, dopo aver cercato di ottenere, per vie normali, una parte dell'eredità, è stato spiegato che non è un'occasione di eredità qui, ha pensato bene di rubare una parte di questi libri per poterci fare degli affari. Il Rebbe ha dato un'importanza gravissima a questa cosa, un'importanza esattamente come liberare dei prigionieri, come dire che la santità viene presa in ostaggio da questo mondo, evidentemente non può essere, quindi va dimostrato al mondo che la santità ha il potere e non il mondo ha il potere sulla santità. Per cui il Rebbe, dopo aver invitato a Medin questo parente che non si è presentato, si è rivolto alla Corte Federale e lì c'è stato questo enorme, enorme miracolo, qualcuno riesce a capire cosa vuol dire che la Corte Federale, che è un giudice di un paese come gli Stati Uniti che divide in modo ferreo lo Stato dalla religione che si basa qualsiasi sentenza solamente sulle leggi e le leggi dicono l'eredità va secondo la famiglia, l'eredità e non secondo il fatto che esista un rabbino che ha dei diritti spirituali, cioè non esiste un concetto simile e alla fine il giudice ha sentenziato in favore del Re. sono state le feste in cui il confronto ci è un fattorato con tutti i balli per strada in palizia in confronto alla gioia e alle feste che sono state fatte in seguito a questa cosa che rappresenta esattamente il discorso che si vuole dimostrare che Dio è il padrone del mondo e che il mondo è stato costruito per la santità e per rivelare il divino spiritualità, il divino nel mondo e che se Dio ha creato il mondo il mondo non può andare contro la volontà di Dio e per fare questo però l'ebreo deve forsi con decisione e non cascare nella trappola di credere e dare potere al mondo e quando noi crediamo e diamo potere al mondo come un potere indipendente alla fine Dio lascia che le cose succedano per via naturale per cui il mondo riesce veramente a venire contro di noi ma la prepariamo noi questa situazione ma questa situazione non è la realtà la realtà è quando noi siamo consapevoli e qui c'era il collegamento ma nella lezione sono aperte il punto molto più particolareggiato la collezione con la nostra parashat in cui vediamo rispettivamente il tipo di lavoro servizio divino che ci propone Yosef Azzadik e Yehuda che sono due tipi di servizio divino dal quale noi dobbiamo attingere molte idee e molta ispirazione e questa di cui parlavamo è proprio quella attinente a Yehuda che va a imporsi praticamente davanti al faraone per difendere Binyamin in un modo che non tiene in conto nessuna realtà e fa in modo che la realtà si adegui alla volontà divina e non l'uomo al mondo mentre il servizio di Yosef dal quale possiamo anche prendere tantissima ispirazione è quello di come essere comunque dentro al mondo pur seguendone anche tutte le regole senza esserne assolutamente intaccati senza perdere di vista mai la verità e lo scopo che persuadiamo e questa parashah soprattutto io ci vedo la chiave che permetterebbe anche a ognuno di noi di porsi in questa posizione quando per calcolizzare i fratelli dopo che si è rivelato loro dice non state arrabbiati non pensate che io sono arrabbiato con voi non temete perché Dio mi ha mandato qui e quando un ebreo ciascuno di noi sente in ogni momento della sua vita che Dio l'ha mandato in quel momento in ogni momento a fare qualcosa a quel punto l'ebreo può veramente immergersi in qualsiasi cosa del mondo senza perdersi perché si ricorda in ogni momento che è lì in quel momento mandato da Dio con un conto quindi questo è un po' quello che noi prendiamo però ripeto ve l'ho fatta in superpillola mentre c'è molto molto più da dire e molto anche di bello perché chi se la sente va a sentirla e oggi invece volevo poi proprio quasi tutte le lezioni ho sentito che ho studiato sono andato a vedere i quanti cadevano sull'attore del Savar del collo lui ha detto quest'anno va il collo evidentemente facciamo approfondiamo questo tema e vediamo che siamo in una prascià dove veramente ci sono gli incontri più emozionanti della Torah cioè difficile non versare una mezza lacrima quando Yosef si rivela ai fratelli e anche quando finalmente Yosef si rincontrano veramente sono cose che non lasciano indifferenti e quando si descrive l'incontro tra Beniamine e Yosef è scritto allora si gettò al collo di Beniamine e Pianse e anche Beniamine e Pianse trattò al suo collo cioè tutti e due abbracciati e in genere quando lui si abbracciano non è tanto sono su un collo potrebbero essere anche più sulla spalla sulla testa ma qui viene citato proprio il collo questo apre una serie di interpretazioni qui da una parte c'è chiaramente l'interpretazione più letterale e ovvia della cosa presi dall'emozione del loro incontro si abbracciano e piangono questa è la cosa più però visto che salta fuori questo collo vuol dire che qui c'è qualcos'altro e Rashi già comincia citando prendendo da Midrash e varie chiamarai Midrash eccetera dice che di fatto Yosef pianse per i due Beit HaMikdash che sarebbero stati costruiti e distrutti nel territorio di Benyamin e Benyamin pianse per il Mishkan di Shiloh che sarebbe stato costruito e a sua volta distrutto nel territorio di Yosef ora sappiamo che la Torah non è un libro di storia per cui cosa veniamo a imparare da questo perché perché questo riferimento al Bet HaMikdash perché non ci si accontenta della spiegazione semplice e letterale allora per il Bet HaMikdash c'è subito un riferimento nel Shira Shirim c'è un verso che dice che che vuol dire il tuo collo come la torre di Davide la torre di Davide ci parla del Bet HaMikdash e parla del collo allora che cos'è il collo riguardo la persona è la parte è nella parte superiore del suo collo il Bet HaMikdash che si va a vedere è stato costruito in una posizione molto più elevata del resto di Gerusalemme però si vede che anche il Bet HaMikdash non è stato costruito nel punto più alto ma 23 a ma al di sotto del punto più alto come il collo nella persona pur essendo la parte superiore non è la parte più alta perché la parte più alta è la terra qui quindi sorge la domanda ma insomma se l'altezza fisica viene a prendere un'importanza simbolica ma un'importanza allora mettete il Bet HaMikdash nel posto più alto e considerate come cosa più importante prendete di riferimento la testa perché il collo che è sopra ma non più alto se l'altezza non ha una funzione perché mettercela perché dirlo quindi cominciamo a cercare di capire di cosa si sta parlando ora qual è il vantaggio di essere in alto ma non nel punto più alto come il collo il Midrash dice come nell'uomo se uno stacca la testa quindi la stacca stacca il collo la persona muore ovviamente così se si parla del Bet HaMikdash se viene distrutto provoca una morte in che senso? una mancanza di vita di vitalità nel popolo di Israele adesso uno si chiede perché viene scelto proprio il il collo per colpire una persona e portarla alla morte ci sono anche altre parti se uno colpisce al cuore ancora prima muore perché viene usato comunque il collo perché viene scelto il collo come esempio di distacco di morte per distacco e per capire guardiamo un attimo la funzione della testa visto che c'è questo parallelo tra il Bet HaMikdash il collo l'uomo eccetera e guardiamo la testa la testa che è più in alto del collo giusto? in genere ora la testa fisicamente se noi la mettiamo sulla bilancia staccata dal corpo viene a pesare un chilo e un po' tipo il 2% di tutto il corpo e d'altra parte veniamo a vedere che la testa richiede per sé il 20% dell'ossigeno che il corpo ha bisogno e anche il 20% del sangue quindi da qui comincia a capire che la testa è veramente per eccellenza l'organo più elevato più importante si pensi che la creatività il pensiero tutto quanto dipende dal lavoro del cervello della testa però non è solo questo queste sono la sua perché della sua elevatezza ma a noi interessa qui di più vedere il perché qual è lo scopo per cosa noi abbiamo la funzione del pensiero per cosa abbiamo la testa e anche non soltanto funzioni persone ma per cosa abbiamo il cervello nel nostro corpo vediamo che il cervello è ha il compito di influenzare tutto il corpo di agire su tutto il corpo e di trasmettere la vitalità e di governare tutte le funzioni fisiologiche della persona e da dove passa tutto ciò dal collo cominciamo a capire quindi qual è la funzione del collo che diventa il passaggio di tutte le energie di tutta la vitalità dalla testa al corpo e qui c'è un esempio che nella nostra vita pratica siccome non siamo molto consapevoli dell'importanza dai parti del nostro corpo perché le diamo per scontate in genere ci accorgiamo del valore della salute del benessere quando qualcosa ci fa male quando si sta bene questo è un buon segno non si sente nessuna parte non si sente neanche il nostro funzionalmento del cervello né niente però se uno almeno ci ragiona sopra e ci ragiona per fare con un paragone purtroppo nella nostra era quando uno ha a disposizione un computer pieno di dati e di informazioni preziosi che volesse usare ma gli cade l'internet e non ha accesso a niente capisce in quel momento cosa vuol dire la funzione di cosa permette di ricevere le informazioni e le cose preziose perché puoi avere una testa piena di cose buone ma se alla fine non ti vengono passate e se ne stanno lì non serve a niente quindi dobbiamo capire che la grandezza del Bet Amikdash non è non è il suo essere la testa ma è l'essere il collo abbiamo mai visto forse il Bet Amikdash come il collo e adesso lo vediamo oggi come il collo vuol dire che il Bet Amikdash non è tanto di per sé Kadosh perché si rivela lì la presenza divina la cosa essenziale del Bet Amikdash è lo scopo del Bet Amikdash che è di trasmettere di permettere di far passare la Kedusha la luce divina la vitalità divina per farla arrivare a tutti dovunque nel mondo questa è esempio sempre viene fatto sono le finestre del Bet Amikdash che non sono fatte per ricevere la luce da fuori ma per diffondere la luce che il Bet Amikdash diffonde quindi lo scopo del Bet Amikdash non è essere la cosa più elevata non è questo la cosa importante ma essere la mediazione ciò che trasmette la luce divina e ora qui ci troviamo nei guai quando quando scoppiamo ci accorgiamo che quando Am Israel ha perso il collegamento vero con il collo con il Bet Amikdash siamo usciti adesso da Chanukah e l'influenza che i greci hanno avuto sull'ebreo per cui alla fine gli ebrei andavano a teatro dei greci e vedevano il Bet Amikdash come un posto estremamente bello molto artistico ma scollegati dove non ricevevano gli ebrei non si facevano più di se stessi dei recipienti per ricevere quello che la presenza divina passava e poteva arrivare al momento in cui c'era un distacco fra la presenza divina e l'ebreo il Bet Amikdash non assolveva più quindi al suo scopo di trasmissione di collo il Bet Amikdash è diventato in pratica pietre e legna a civile di distruzione infatti è stato distrutto da Kadosh Ruku quindi se non vi serve e non lo utilizzate per quello che deve essere è inutile che ve lo faccio tenere bisognava imparare da queste lezioni per cercare adesso di avere quello che poi ci resta ma almeno capiamo che cosa dobbiamo fare anche noi ora quando quindi l'ebreo non fu più pronto a collegarsi alla sua santità del Bet Amikdash ma lo vede come una cosa ben elevata anche se Kadosh non è che non pensavano che ci fosse che non ci fosse Kadoshà nel Bet Amikdash ma staccata da lui c'è il senso c'è il Tempio e ci sono io senza collegamento e qui si arriva alla distruzione ora anche l'uomo è Olam Katan c'è il macrocosmo il microcosmo tutto è parallelo e corrispondente per cui anche ed anche l'ebreo è Bet Amikdash a sua volta e ogni ebreo è stato creato da Dio per uno scopo abbiamo un compito abbiamo qualcosa da fare qui e la sapienza e tutte le qualità che Kadosh lo fu ci ha dato se non sono solo per uso personale ma per influenzare e agire sugli altri su me stesso sul mondo per trasmettere per trasmettere santità vitalità divina al mondo e e e e questa è la funzione del Bet Amikdash che è rappresentata anche nell'uomo dal collo che deve far passare l'influenza della testa al resto della persona e al mondo non tenersene per sé ma devono agire se stanno lì cosa serve ora la l'aiuto per arrivare a realizzare questo la chassidut ma soprattutto Chabad se l'è presa in carico come cosa principale se andiamo a vedere Chabad è Chabad è quello che avviene nella testa e Chabad è chiamato anche Lubavitch Lubavitch era la cittadina in cui il significato del nome c'è dentro Luba che è amore città dell'amore per cui si vede già che lo scopo di Chabad è prendere Chabad abbinare data prendere tutta l'intelletto e fare sì che agisca amore sulle emozioni questo è il compito e bisogna vedere come portarlo a termine a volte anche come cominciarlo ora noi vediamo nel Tania oggi vi cito visto che siamo ricordo tutte siamo all'inizio del del ciclo nuovo del Tania siamo ai primi capitoli per cui chi non ha cominciato può cominciare adesso e recuperare recuperarsi l'edizione italiana se non può seguirla in ebraico è divisa aiuto chi vuole a capire la divisione per giorno ogni giorno c'è una parte è quello che io consiglio anche se uno capisce anche se uno non capisce di leggere lo stesso perché quando tutti gli anni rileggi la stessa parte qualcosa di più sempre capisci dopo di che abbiamo la fortuna che Bavu Hashemi in italiano adesso siamo pieni di lezioni di Tania ognuno si sceglie l'orario il marzo che più gli piace e se lo segue ed è una base che è difficile pensare di fare senza perché è veramente una una mappa insomma come uno fa con la cartina e non si perde quando sa cosa gli gira dentro e cosa gira fuori quindi Tania dice una cosa fondamentale che è il cervello comanda sul cuore in virtù della sua stessa natura fin dalla creazione Dio l'ha creato con questa capacità per cui il fatto che per noi spesso le dire non succede non vuol dire che il cervello non ha la capacità di comandare sul cuore ma che io non ho imparato o non ho scelto di volerlo fare perché per volerlo fare devo lavorarci perché c'è anche tutta un'altra parte che cerca di appropriarsi e di mettere le mani sulla cosa quindi l'ebraico è il famoso Moab Shalit Al-Ale e dice anche ogni uomo può con la forza di volontà che è nel suo cervello dominarsi e controllare la spinta al piacere che c'è nel suo cuore impedendo ai desideri del suo cuore di esprimersi in azioni parole o pensieri sviando completamente l'uomo può sviare completamente la propria attenzione da ciò che il proprio il proprio cuore pretende e indirizzarla invece in una direzione assolutamente opposta e particolarmente verso la santità quindi quando la persona viene catturata da un impetto di volere cose che non sono le cose giuste non sono le cose buone e si lascia andare senza senza freni in questo caso si descrive la persona con la famosa espressione ebraica va lì va lì è mi va ho voglia mi va ho voglia per cui prendo e faccio senza neanche starci su a pensare questa modalità è la modalità dell'anima animale ma è la modalità proprio dell'animale l'animale non sceglie segue i suoi istinti e non ha nessuna libertà e possibilità di scegliere quindi quando noi andiamo dietro al va lì praticamente rinunciamo alla prerogativa che noi abbiamo di poter ragionare e scegliere che cosa capiamo che è bene per noi quando invece azioniamo questa capacità che il pensiero ha siamo in grado addirittura dice il Tania di davanti a un impeto del cuore che ti porta ad una parte di indirizzarlo invece addirittura nella direzione del tutto opposta come questo è tutto l'opposto cioè quindi mi sta sul scatolo una persona e gli vorrei e invece rivolto che addirittura con la personalità all'interno dell'animo gli faccio un grande sorriso e gli esprimo tutto il mio affetto sembra fantascienza no è possibile ma non è a gratis è frutto di lavoro però lavoro che conviene che paga perché vivere comunque nell'odio è qualcosa che ci diceva sempre mia mamma che si mangia il fegato sono mangiato parecchio e io li vado dietro e scritto anche allora io vidi che la saggezza eccelle sulla stoltezza come la luce eccelle sulle tenebre quindi il tipo di lavoro che ho da fare non è stare a combattere con le tenebre ma a mettere luce e la saggezza è quella che fa luce e la stoltezza è il buio e noi abbiamo la capacità di accendere la nostra lampadina tipo per chi legge Topolino è un assistente di Archimede e di illuminare la stoltezza che è in noi perché si dice anche che uno non pecca se non entra un uno spirito di stoltezza dentro di noi quindi non solo abbiamo la capacità il potere di di dominare il cuore per cuore si intende anche tutte le emozioni negative gli istinti verso le cose che non sono le cose buone ma anche e questo udite udite ma anche di trasformare le mie emozioni e qui già si fa ancora più interessante la cosa perché se uno pensa che tutta la vita deve dominare 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 noi sappiamo che l'idea che abbiamo noi di dominare è mettere un coperchio sulla pentola finché la pentola scoppia invece il lavoro nostro servizio divino non deve essere fatto in questo modo ma la direzione non è soltanto dominare con la forza ma proprio illuminando facendo passare quello che capiamo e facendo sentire il bello di quello che capiamo ma al punto tale che se le emozioni come abbiamo fatto l'esempio la persona mi sta sulle scatole l'emozione mi direbbe di farli non so cosa come la logica umana direbbe che Yosef aveva l'occasione di finalmente vendicarsi come si deve di tutto quello che gli hanno fatto e invece c'è la possibilità di trasformare completamente quello che noi sentiamo le nostre reazioni quando un'emozione un desiderio verso qualcosa quando io ho un'emozione la prima cosa la prima cosa che è implicata in questo processo è la mente noi non pensiamo così pensiamo che il cuore vada solo vado in giro per il mondo il cuore reagisce a destra e a manca in effetti non è così il primo elemento implicato è la testa perché perché per amare o odiare una cosa io devo avere nella mia consapevolezza che la cosa esiste e che la cosa per me è amabile o detestabile per cui parte da lì nel momento in cui avviene il messaggio che la cosa è amabile o detestabile esiste e esiste qualcosa c'è questa consapevolezza il messaggio arriva al cuore che reagisce quindi se tutto comincia dalla testa è lì che io posso agire è lì che io posso lavorare per cambiare le cose esempio c'è la di non so come si chiama un tipo di terapia alternativa interessante molto bella immaginazione guidata non so come si dica in italiano comunque ti porta è basata proprio sul fatto che quando tu visualizzi qualche cosa non ti limiti a visualizzare ma cominci anche nella tua visualizzazione a sentire le emozioni che sono collegate all'immagine alla situazione che ti stai immaginando fa nascere dei sentimenti per cui una persona è in grado di decidere che cosa mette noi poi abbiamo anche la fortuna che nella nostra testa non ci sta più di un pensiero alla volta quindi se penso una cosa nello stesso momento non posso pensare a un altro per cui se io cambio canale e metto volontariamente nella mia testa un pensiero che io decido alla fine anche l'emozione che ne deriva sarà quella che è derivante dal pensiero che io ho voluto mettere per cui se io ho vissuto una cosa estremamente piacevole che mi ha dato tantissima gioia e cerco di ricordarmela mi concentro visualizzo la penso mi ricordo tutte le emozioni che ho provato arriva il momento in cui queste emozioni si risvegliano nel cuore e io le sento anche in quel momento questo è un esempio di esercizi da fare e per farli bisogna come prima cosa credere che abbiamo questa possibilità perché è possibile anche non crederci e dire no è più forte di me quando mi viene più forte di me se io do adito a questa a questa cosa veramente non faccio nessun passo avanti per cui devo cominciare a studiare questa tematica a ragionarci sopra a provare a provare a fare i propri esercizi e poi scoprire in qualche situazione che sono riuscita a cambiare canale nella mia testa quindi quando sale in me un pensiero negativo che cerca di risvegliare emozioni negative io devo sapere che ho la possibilità in un attimo di sostituire quel pensiero con un altro positivo che scelgo appunto soprattutto utilizzando anche immagini e ricordi è come introdurre un po' di luce invece che combattere contro il buio che non serve niente quindi cambiare il modo di vedere di pensare introdurre tipi diversi di pensieri di immagini di visione del mondo può trasformare l'individuo fino a farlo sentire un uomo nuovo c'è stato uno chalier de Rebbe che una volta ha portato una persona di una certa età anche dal Rebbe farlo incontrare questa persona dice che quando è uscita non la si riconosceva e continuava a dire sono rinato sono una persona diversa sono una persona nuova e tutto questo è solamente un immettere dentro la nostra mente una possibilità di vedere le cose da un punto di vista diverso cambia completamente cambia lo sfrutto con il nostro mondo emozionale ma tutto ciò poi appunto per essere efficace per passare dal collo se qui abbiamo la barriera non ci arriviamo e la barriera c'è anche proprio quando ci siamo come abbiamo detto lasciamo andare al Bali mi va invece noi dobbiamo decidere che noi possiamo e dobbiamo scegliere a cosa pensare che possiamo fare magari non in tutti i momenti da giornata evidentemente però se io ci provo tutti i giorni in qualche momento questa capacità come quando fai i ginnasti che i muscoli atropizzati cominciano a prendere una certa forma magari si espande nella giornata e hai più possibilità di più volte sentirti in questa a esercitare questo potere che ognuno di noi ha ora nella storia dell'incontro fra Yaakov e Sav torniamo un attimo indietro perché ci aiuta a capire anche altri aspetti interessanti anche lì viene detto si gettò al collo e pianise però se nella lezione in cui abbiamo trattato questo argomento abbiamo dato spazio solamente alla interpretazione positiva che veramente Sav lo baciò con tutto il cuore c'è però anche un'altra versione che dice che Sav cercò di morderlo per staccare la testa praticamente e la testa per un miracolo il collo si trasformò come una colonna di armo e Sav si ruppe tutti i denti ora a parte il desiderio di Sav secondo questa versione di far male o di uccidere Yaakov capiamo che in senso più spirituale adesso che abbiamo capito cos'è il collo la vittoria di Esav passava dalla possibilità di disconnettere Yaakov con la testa e di non permettere più che la sua spiritualità si infondesse in tutta la sua persona e in tutto il mondo per cui l'ho sconnetto e su di lui e ho già vinto quindi cosa che prima non avrei potuto capire finché non abbiamo studiato il collo oggi facciamo anatomia ora e ora spieghiamo perché Yosef e Binyamin piansero l'uno sul collo dell'altro e non per esempio sulla tua testa in fondo se lo vicino la loro testa si toccava e la testa è la parte più elevata della persona più spirituale della persona però abbiamo visto il collo il punto di passaggio e se c'è un problema è nel collo la causa è nel passaggio la testa può avere un grandissimo potere positivo sulla persona può ha questo potenziale eppure a volte si vede che invece di essere di lasciare che sia quello che deve essere padrona di casa la testa la testa rinuncia a questo diritto a questo merito e si ritrova a fare la sguattra la sguattra dei desideri del cuore praticamente e la nostra scelta deve essere quella di usare questo potere ma è in mano nostra non è automatico dobbiamo scegliere veniamo ora alla domanda perché Yosef pianse per i Betamikdash che erano nel territorio di Beniamin e perché Beniamin per il Mishkan che era nel territorio di Yosef perché nessuno perché ognuno non ha pianto per quello che aveva lui in genere una persona vede una cosa che gli è capitata piange meno evidentemente piange per quello che è capitato all'altro e qui c'è qualcosa di veramente fondamentale che dovrebbe farci cambiare un po' dentro la nostra Ruth scusa c'è qualcuno che mi sta chiedendo che non riesce ad entrare come ci sta provando perché io non vedo nessuno io non vedo nessuno mi ha piaciuto un'entrata senza problemi infatti l'ho fatta entrare Johanna Lorella puoi rimandarle il link vedere se magari non stiamo facciando su una cosa un po' grande allora qui ci arriviamo passando da un altro gradino ed è un'espressione che dice Reshaim Meleim Haratot Kerimon i malvagi sono pieni di rammarico di pentimenti come un melograno cosa vuol dire qua una spiegazione è che il rammarico per i propri peccati quando ci piangi su e sospiri può avere purtroppo la funzione di tranquillizzare la persona vedi sono sensibile mi dispiace capisco quando qualcosa non va adesso mi sento meglio e continuo a fare le stesse cose tanto che è detto è meglio un'azione di mille sospiri e se sembra strano questo non è così strano se ci pensate bene è qualcosa che io penso che a chiuno di noi succeda sospirare si sospira molto per quello che non facciamo bene ma da questo non è che viene l'impulso a questo punto di cambiare le cose e perché per farlo ci vuole lavoro per lavorare ci vuole consapevolezza e per aumentare la consapevolezza facciamoci una domanda in genere per cosa si piange per cosa la persona piange veramente per la gioia per il dispiacere per l'emozione ci sono mille motivi per cui la persona piange però in ognuno di questi motivi comunque il comune denominatore è che si piange per qualcosa che per la persona è importante quindi non viene da piangere e qui è interessante come da per cosa una persona si stressa e piange e sospira e oi oi va voi si vede dove è messa la persona nella sua vita per cui purtroppo quando si vede che una persona piange a mare lacrime perché gli hanno fatto un graffio sulla macchina capisci nella scala di valori sentiti emozionalmente nella sua vita dove lui si pone o perché si è macchiato il vestito o perché qualcuno gli ha buttato lì una parola poco carina o perché ha perso il tre sono tutte cose spiacevoli ma quando uno arriva a sentire che ognuna di queste cose nella sua vita è una tragedia che lo fa sospirare piangere dire ecco vedi ma perché capisci che sei messo un po' come i bambini piccoli che non è sviluppato la loro mente per cui desiderano le cose di poco conto e si arrabbiano per cose di poco conto però un adulto dovrebbe aver raggiunto dei livelli differenti uno può capire dove è messo nel suo progresso nella sua vita dalle sue reazioni negative c'era raccontata una storia che fa veramente impressione cioè fa anche dispiace parlare non so se questa la suonerà ma il figlio di un di un Rosh Shiva di qualcuno che passava la sua vita intorno alla Torah insegnare Torah eccetera che un giorno torna a casa il figlio lo vede che c'erano stati degli operai che stavano facendo dei Shippuz rinnovamenti nella cucina hanno messo delle piastrelle ma le piastrelle non erano perfettamente allineate dritte e a quel punto il padre Rosh Shiva ha cominciato a urlare a questi operai in una maniera non normale e il figlio si è chiesto Torah se la Torah è questo se studiare Torah porta questo e il figlio purtroppo spero che sia tornato per quel momento è sceso dal treno perché ha detto questo non fa per me qui dobbiamo veramente capire la dicotomia per cui capiamo delle cose poi il collo qua blocca e ci comportiamo come degli animali quante volte l'abbiamo detto capiamo usciamo tutti ispirati dall'amore per gli altri poi il primo che ci dice la parola nel punto debole nostro siamo capaci di mangercelo vivo quindi il lavoro ce n'è ancora tanto da fare però ogni volta che mettiamo luce su questo possiamo fare un passo avanti quindi dove tu ti dispiace piangere fa vedere che cosa è importante per te fa vedere chi sei e quando si incontrarono Yosef e Benjamin provarono emozioni per ciò che era importante per loro cosa era importante per loro la spiritualità il betamikibash e ognuno dell'altro prima pianto di gioia perché ognuno ha capito una parte dell'altro sarebbe stato costruito un santuario sarebbero stati costruiti due betamikibash e poi il pianto di dolore per l'altro perché sarebbero stati distrutti in parentesi perché non era in questa lezione però anche uno dei motivi per cui si piange per l'altro e non per se stessi è perché per se stessi non serve a niente una perdita di tempo piangere perché qualcosa non va per te stesso iri sulle maniche e cerchi di aggiustare la cosa piangere puoi piangere quando ti sei fatto male o quando è morto qualcuno ma per il resto non è una cosa utile costruttiva mentre per l'altro che non puoi fare il lavoro per l'altro dopo che hai cercato di aiutarlo per quello che puoi e senti il dolore dell'altro piangi per l'altro questo sì che ti fa sentire l'altro vicino ora dice scrive il figlio del Khatam Sofer Khatam Sofer non ricordo come viene chiamato che ricorda che il tempo fu il tempio fu distrutto per l'odio gratuito per Sinat Hinnam e l'odio iniziò in varie situazioni però qui parliamo dell'inizio della costruzione del popolo di Israele per cui l'odio per noi cominciò con la lite e l'odio tra i fratelli tra Yosef e i fratelli anche se poi se si va in profondità si vede che quello che avevano contro non era odio gratuito perché c'erano sotto dei ragionamenti che avevano una certa base di interpretazioni diverse per cose positive per cui però non entriamo in questo in ogni caso c'era una situazione non sana di odio di lite e nel momento in cui finì la lite quando Yosef si rivelò e in tutta la situazione emotiva che si creò dove Yosef pianse e i fratelli capirono che non era arrabbiato con loro perché ha espresso i suoi sentimenti le sue emozioni verso di loro quindi veramente è terminato l'odio a quel punto ora Yosef e Binyamin poterono vedere il Betamikdash allora ripetiamo il Betamikdash viene distrutto per Sinatrinam cominciò anche lì nel momento in cui viene superata Sinatrinam si apre la possibilità della costruzione del tempo qui per finire c'è una storia che fa capire ancora altri gradi di profondità nei quali possiamo arrivare come lavoro ci sono due fratelli Hassidin famosi per varie storie Rabbi Esusha e Rabbi Elimele e Rabbi Esusha racconta che una volta si era avvicinato alla porta di un'osteria e ha visto due ubriachi e uno diceva Iva come ti voglio bene non puoi capire come ti voglio bene e l'altro diceva non è vero tu non mi vuoi bene ma no io ti voglio tantissimo non è vero sì no perché perché non ti dovrei voler bene e l'altro dice tu senti quello che mi fa male lui dice no come faccio a sentire a sapere quello che ti fa male e allora questo nei fumi dell'alcol si spiega e gli dice se non sai che cosa mi fa male e non puoi aiutarmi in ciò che mi fa soffrire non mi vuoi veramente bene dice Ravisusha che da questo lui ha imparato una grande lezione e qui veniamo all'ultimo tema che è quello della sensibilità si comprende qui che cos'è la sensibilità e qual è la sua importanza per essere sensibili e questa è una delle frasi che io vorrei scrivervi e tenermi lì per essere sensibili verso gli altri bisogna accettare essere d'accordo a sentire e non è una cosa ovvia perché la tendenza invece è a chiudere e difendersi non accettare di sentire anche il proprio dolore e anche il dolore degli altri in genere la tendenza è pigli e scappa facciamo finta di niente è più comodo è più comodo ma non paga quindi c'è la necessità si scopre di essere pronti ad aprirsi e più si sente l'altro più si sente il suo dolore più si sente venire fuori anche l'amore per l'altro e non è un sentire il dolore e sprofondare dire ecco non c'è niente da fare non in questo senso ma proprio empatia semplice empatia se si sceglie sempre infatti di fuggire dal dolore degli altri ma anche del proprio non si può amare veramente sono barriere solo che poni in te stesso e con gli altri quindi quando scappo da ciò che mi fa male al fine sto anche peggio perché perché non sono veramente con me mi lascio indietro mi taglio non amo me stesso e così succede tra padre e figli tra marito e moglie viceversa moglie e marito quando si è pronti a sentire il dolore dell'altro a sentire la difficoltà dell'altro senza subito dare consigli o sgridare o criticare no bisogna essere lì ascoltare e sentire l'altro questo permette veramente di sentire nascere in se stessi e nell'altro l'amore e sappiamo che l'amore questo è amore vero è quello che si oppone all'odio gratuito ed è quello che permette la costruzione del tempio quello eterno per cui sentendo ognuno l'amore la gioia il dolore dell'altro Yosef e Benjamin hanno gettato le basi per il terzo tempio per il superamento del sinatrinam con avatrinam con amore gratuito e ci hanno dato la forza anche a ognuno di noi di rivelare l'amore che abbiamo dentro che si può esprimere in tutti i modi in qualsiasi momento c'è la storia di un famosissimo Hassid che ha sofferto tantissimo in Russia Mendel Futterfass ed è stato quello che ha fatto per l'ebraismo è stato imprigionato messo in campi di lavoro e a un certo punto e per lui l'amore lavati israeli è una cosa fondamentale cioè come togli di quello togli il respiro il sangue e in questa azione lì lui stroate non aveva ebrei intorno non ne aveva quindi come poteva esprimere quindi amore per l'altro non è solamente aiutare l'altro certamente aiutare l'altro ma cosa ha fatto? Ogni giorno ha preso il suo tempo per concentrarsi e pensare a ognuna delle persone che ha voluto pensare e mandare esprimere sentire e ravvivare l'amore che sente per una persona sono sicura che chi è stato toccato dai suoi pensieri l'ha sentito ne è stato arricchito e questa è anche una cosa che ognuno di noi può fare per pensare bene all'altro bene dell'altro pensare alle cose buone dell'altro a quelle che si vedono e soprattutto a quelle che non si vedono e questo è un lavoro quotidiano in quello che abbiamo detto oggi abbiamo se ce la risentiamo un po' abbiamo tonnellate di esercizi lavoro possibile comprensione e tutto questo dal collo è detto che non per niente è stata data questa grande importanza al collo tanto che Hashem ha deciso che ci deve essere un posto preminente dove uno si mette le collane tutti i gioielli e il collo evidentemente per sottolineare la sua importanza concludiamo con questo e concludo quanto meno registrazioni invece si resta il proprio piacere sentito